Investire nelle infrastrutture elettriche rappresenta un fattore cruciale al fine di accompagnare e accelerare la transizione energetica. Gli obiettivi di decarbonizzazione che sono stati fissati dal piano naso all'energia e al clima e successivamente dal diriggio a livello europeo porteranno una grande investimento in nuovi piatti da fonti rinnovabili e anche una sempre maggiore elettrificazione di consumo. E dall'altra parte assicurare una sempre maggiore disponibilità di energia elettrica per l'elettrificazione dei consumi, quindi in particolar modo per i grandi centri urbani basti pensare alla mobilità elettrica, sempre maggiormente presente, e alla graduale sostituzione del gas quale strumento per il riscaldamento delle abitazioni con i vettori luci. TAC ha individuato 12 interventi principali a supporto dell'evento delle Olimpiadi Invernali del 2026, in particolar modo attraverso delle soluzioni che permetteranno di evitare l'utilizzo dei generatori diesel particolarmente inquinanti. Terma si impegna quotidianamente a supporto della transizione energetica. Il recente aggiornamento del nostro piano industriale 2021-2025, Trading Energy, conferma 10 miliardi di investimenti complessivi a supporto di una piena integrazione delle fonte rinnovate, ci permetteranno quindi di sfruttare a pieno delle risorse energetiche in cui il Paese ha ampia disponibilità. Questo richiede però un approccio sostenibile, sia nella scelta delle tecnologie che nella modalità di realizzazione degli investimenti del nostro piano industriale.